Salve, sono Silvia De Paulis, Comitato Esecutivo di Slow Food Italia. Siamo qui oggi a presentare il nostro progetto La Buona Strada. Il risultato del nostro progetto La Buona Strada ripartiamo dal cibo. Un progetto che è nato nei mesi successivi al termoto terribile che ha devastato il centro Italia. Noi da sempre siamo a fianco dei piccoli produttori, dei piccoli allevatori che sono stati duramente colpiti dal terribile terremoto. Con loro abbiamo fatto un percorso partecipativo, abbiamo sentito quali erano le loro esigenze e da questo ben due progetti sono relativi all'acquisto di furgoni mobili, quindi negozi mobili che appunto porta in nome della Buona Strada ripartiamo dal cibo. Sono qui, il primo furgone oggi ci ha dediziato con i loro prodotti nella pausa pranzo, sono i produttori dell'area laziale del centro Italia. Successivamente verrà consegnato nei prossimi giorni il secondo furgone mobile e agli produttori di comunanza e dell'area marchigiana del Cratero Sismico. Ringraziamo Street Food Day che in questa giornata ha voluto rappresentare tra i tanti progetti anche il nostro progetto. Grazie. 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 Grazie.